Che cosa è successo ieri? Ieri è stata una giornata veramente particolare da non dimenticare mai. Siamo stati tutto il giorno a Montichiari nel parcheggio sottostante all'allevamento in attesa che arrivassero questi cani che sembravano non arrivare mai. Però diciamo alla fine, anche se in numero ridotto, siamo riusciti a portar fuori da quel lager 17 cucciolone. Che cosa succederà adesso con i cani? Faremo un accurato filtraggio di tutte le richieste che abbiamo avuto che sono ben oltre il numero dei cani che siamo riusciti a portare qua e poi pian piano andranno tutti in affidamento in queste nuove famiglie. Quali sono le condizioni in cui avete trovato i cani? Le condizioni fisiche non troppo buone. Diciamo che sono tutti mediamente molto magri. Due hanno la rogna e una appureremo oggi con il veterinario perché sta molto male. La cosa che ci ha sorpreso è l'aspetto psicologico. Ci aspettavamo cani molto più impauriti dall'essere umano come lo è stato due anni fa per quelli usciti dall'ex Morini. Invece questi sono veramente molto socievoli e non presentano grandi problemi da questo punto di vista. Per il momento i 17 cani che sono arrivati ieri dovrebbero già avere una famiglia. Voi però pensate di andare e prenderne in affido altri. Se ci fossero persone interessate quali sono i criteri fondamentali che deve avere una famiglia? Sicuramente amore e anche consapevolezza di chi cane sta andando a prendere per cui cercare di rispettare il più possibile le sue esigenze. Sono cani a cui piace molto stare fuori, studiare il territorio. Per cui diciamo che già in un appartamento senza neanche un giardino così non è proprio la sistemazione ideale. Però diciamo che in certe condizioni può andare anche quella. Sicuramente diffidiamo ogni tipo di utilizzo di questi cani per quelle che sono le sue caratteristiche, cioè cani che venivano usati purtroppo da caccia. Per cui tutti i cacciatori siano ben lontani da richiedere questi cani in affidamento.